Musica Apriamo la pagina sportiva con il calcio dopo i pareggi di Sesto San Giovanni ed Olbia la Lucchese torna al Porta Elisa dove manca da quasi un mese i rossoneri ospiteranno domenica alle 15 la Giana Erminio nella giornata di venerdì nuovo giro di tamponi in casa rossonera secondo quello che impone il protocollo sanitario a 48 ore dal match i risultati arriveranno però solo sabato con la speranza che non vi siano sgradite sorprese per quanto riguarda l'aspetto tecnico Mr. Lopez dovrebbe affidarsi ancora al 3-5-1-1 e a grandi linee agli uomini che lo hanno ripagato in modo positivo nelle due trasferte suddette sabato la seduta di rifinitura e poi il 53enne tecnico rossonero deciderà lo schieramento da opporre alla Giana di Mr. Albé in una sfida assai delicata e in cui i punti cominciano a valere il doppio in ottica salvezza parliamo anche della Serie D che continua a dimenarsi tra mille difficoltà ed un protocollo che andrà per forza rivisto ne va del proseguo del campionato stesso domenica 29 novembre e doveva riprendere il campionato in realtà non sarà così perché domenica 29 novembre sarà una giornata dedicata ai recuperi visto che finora se ne sono giocati ben pochi nel dettaglio nel girone di, cioè nel nostro girone si giocheranno due partite Realforte-Quercetta-Lentigione e Corticella-Seravezza ancora nessuna notizia invece di Prato-Ghivi-Borgo possiamo dire una delle partite più rinviate nella storia recente del calcio Siamo al basket domenica il Gesan Lemura torna in campo in una delle partite direi più classiche di questi 11 anni di Serie A 1 ovvero la sfida allo schio pluricampione d'Italia Dopo 22 giorni il Gesan Lemura torna in campo da allora si sono susseguiti il rinvio della gara interna con la Dinamo Sassari di cui ancora non è stata fissata la data del recupero e la sosta per gli impegni delle nazionali Campionato a Yo-Yo, ove si consideri che mancano all'appello ben otto partite e che vi sono squadre come Raguse e Vigarano con tre gare in meno Una classifica che non vede lo schio al primo posto rimpiazzato da Venezia ma ciò non significa che l'impegno di domenica sera sul campo della squadra pluricampione d'Italia per il Gesan non sia arduo Jurlaro ha avuto tre settimane per inserire al meglio Linnea Harper la 25enne di Chicago permetterà un bel salto di qualità Il pallone a spicchi racconta che al pala romare è stato finora quasi un monologo nero-arancio 9-1 per lo schio Spesso le vicentine hanno spadroneggiato Unica eccezione che ricordiamo ben volentieri l'unico successo targato Lemura risale alla stagione 15-16 quella che guarda caso si concluse con la finale scudetto vinta però da schio Lemura si impose in quella gara di campionato 63-47 L'ultima volta invece sul parquet delle Venete non ci fu storia era il 4 febbraio scorso poco prima del lockdown e finì con un pesante 82-51 Ripettersi domenica non sarà assolutamente facile ma Lucca dovrà perlomeno provarci Decisione amara ma quanto mai opportuna in questo delicatissimo periodo di emergenza sanitaria dal lunedì scorso 16 novembre la pugilistica lucchese ha infatti sospeso l'attività in palestra dei suoi atleti dai più grandi ai più piccini Il maestro Giulio Monselesan che tra l'altro sentiremo nelle prossime edizioni del Tigino e Sport cerca di lavorare con i suoi atleti grazie ad una sorta di didattica a distanza ma logicamente non può essere la stessa cosa Sabato giornata cruciale Epilogo del campionato italiano rally 2020 Sono 102 gli equipaggi che si sfideranno sabato all'undicesimo Tiuscan Rewind ultimo atto del CIR del campionato italiano rally Terra e CIR Junior un numero record per la bella gara sienese che sui mitici sterrati deciderà la sorte dei vari campionati tricolori Partiamo dal CIR 27 iscritti da sottolineare l'assenza di Stefano Albertini e Alessandro Re sarà a corsa a tre lo dice anche la matematica il campione uscente Gian Domenico Basso proverà a bissare il titolo 2019 a sfidarlo ci sarà ancora Andrea Crugnola e più staccato ma matematicamente ancora in lizza Marco Signor a regitare il ruolo di outsider troviamo il finlandese Emil Lüdelm da segnalare altri protagonisti come Scattolongo, Oldrati, Profeta, Battistolli, Somaschini e Perosino nel CIR due ruote motrici Paolo Andreucci cercherà di calare il poker in caso di successo il campione Garfagnino porterebbe a casa la coccarda tricolore riservata alle due ruote proveranno a rendergli la vita dura Daniele Campanaro, Davide Nicelli, Alessandro Casella e Fabio Farina al via tra i driver lucchesi anche Mattia Vite e Cristopher Lucchesi atto finale anche per lo Junior C con Andrea Mazzocchi che ci arriva da leader chiudiamo con il campionato italiano rally Terra assente Paolo Andreucci impegnato come detto nel due ruote motrici la lotta per il titolo si riduce a tre pretendenti Simone Campedelli, grande favorito Giacomo Costenaro e Marchito Bulasia nel ruolo di Guastafeste Romagna, Molinaro, Battilani e Fanari tra le altre guest star iscritte ma trasparenti per i campionati il nove volte campione del mondo di motocross Tony Cairoli e il forte pilota francese Jibet Franceschi chiudiamo ancora con i motori perché il Tuscan Rewind assegnerà anche lo scudetto del campionato italiano cross country nella classe T2 il fornacino, il nostro Andrea Lucchini è in lotta con Alfio Bordonaro per il titolo tricolore il siciliano è avanti di un solo punto mentre il pilota lucchese affiancato da Piero Bosco viene dalla vittoria nell'ultima sfida disputata all'Adriatico e sicuramente farà di tutto per scavalcare il forte rivale naturalmente un grosso in bocca al lupo ad Andrea Lucchini e anche a tutti gli altri nostri piloti che sono impegnati nel Tuscan Rewind è tutto per quanto riguarda la pagina sportiva una breve pausa e poi torniamo con la terza ed ultima parte